Non dobbiamo stare lì a guardare la classifica perché se no ci impelaghiamo su situazioni che non ci riguardano. Noi dobbiamo andare avanti sotto l'aspetto lavorativo, sotto l'aspetto prestazionale, sotto l'aspetto di quello che è una squadra combattiva, di quello che è una reazione alla prestazione di domenica e al risultato di domenica. Mi aspetto una reazione da parte della squadra che non ci deve mettere quelle pressioni e quelle ansie, ma deve essere una reazione che è da far capire che è stato un incidente di percorso. Io sono chiaro con i ragazzi, i ragazzi lo sono con me, ci sono tante voci e continueranno a esserci fino alla fine e alla chiusura di questo mercato. Alla base di tutto credo che ci sia una sola parola, quella di dire hai fiducia o non hai fiducia. Quindi alla fine anche il giocatore se fa delle scelte ponderate a quello che è la fiducia dell'allenatore o meno. Io fino a oggi ho trattato tutti alla stessa maniera, guardando e badando soprattutto al bene della società, al bene della squadra, al bene anche ovviamente dei singoli calciatori. Però poi quando arriva questo momento i giocatori devono capire se stare qua per loro è un bene o può essere un peso. Se ci hanno qualche piccolo dubbio preferisco che vadano via perché voglio avere gente che abbia la testa sgombra e si dedichi anima e corpo a quello che è questo progetto, a quello che è questa parte di campionato e soprattutto il girone di ritorno che lo sarà ancora più determinante. Quindi i giocatori che saranno a disposizione del chiedicalce e rimarranno qua devono essere consapevoli di quello che vanno a fare, cioè utili alla squadra e nessuno indispensabile. Un minimo dubbio preferisco che facciano altre strade. Comunque le voci destabilizzanti arrivano da tutti i fronti e noi dobbiamo essere furbi a non cascarci perché tante volte sono dei tranelli. Noi dobbiamo essere bravi a leggerli con quello che è la veridicità delle cose e affrontarla con massima schiettezza e linearità. Noi dobbiamo cercare di ribaltare quello che è stata domenica facendo una prestazione di livello con un atteggiamento importante e con soprattutto aggressività e corsa. E poi andremo a valutare dopo la partita se questo ci ha creato un danno. Se ancora non ho la disponibilità di giocatori che sono arrivati, non ho la completezza fisica di altri giocatori, credo che la normalità non l'abbiamo raggiunta, ma credo che sia una cosa ovvia questa. Noi dobbiamo cercare di fare il massimo e cercare di rimanere sempre più legati al carro delle prime in classifica, in questo caso c'è la San Benettese, cercare di rimanere più attaccati e non perdere altri punti ci agevolerà poi eventualmente nel girone di ritorno. E come ho già detto anche in conferenza, noi secondo me faremo parte poi di quella cerchia di tre, quattro squadre che si giocheranno il campionato fino alla fine. Grazie a tutti.